Singolare intervento dei vigili del fuoco del distaccamento dei ricadi che con gli elisocorritori del reparto volo di Catania e una squadra a terra hanno recuperato una mucca che era scivolata in un dirupo in località Cocorino nel govune di Iopolo. Per rendere meno traumatiche per l'animale le operazioni di salvataggio è intervenuto anche un veterinario che lo ha sedato onde evitare bruschi movimenti durante la delicata fase di recupero. La mucca ha riportato solo lievi danni ed è già stata riconsegnata al legittimo proprietario. Grazie a tutti.